Venerdì sera hanno tentato di rapinare il Penny Market sulla provinciale Modugno Bari, ma sono stati arrestati dai carabinieri che li attendevano all'uscita. Tre giovani fra i 19 e i 25 anni, di Trigiano e Rutigliano, sono finiti in manette. Dopo aver fatto irruzione a volto coperto nell'ipermercato, hanno puntato le pistole, poi risultate giocattolo contro le cassiere ed hanno arraffato 700 euro. Ma i carabinieri di Modugno sono stati informati che era in corso una rapina e sono giunti sul posto in tempo per bloccarli. Avevano il volto coperto, due di loro erano armati. Erano pronti a darsi alla fuga su un'auto risultata rubata il giorno stesso a Rutigliano. I militari hanno intimato loro di gettare le armi, i rapinatori se ne sono liberati ed hanno poi tentato una fuga disperata a piedi. Ma i carabinieri li hanno raggiunti e arrestati.